Queste sono le tabelle di crescita che i genitori venerdì a Vicenza in ambulatorio troveranno dove verrà misurata l'altezza effettiva del bambino a quella data per fare una valutazione in base alla crescita precedente. L'ospedale San Bortolo con il reparto di endocrinologia apre le porte ai genitori e ai loro bambini. L'iniziativa fa parte di un'ampia campagna di sensibilizzazione verso i problemi della crescita che spesso, se identificati prematuramente, possono essere curati al meglio. Afadoc, l'associazione fondata dalla Vicentina Cinzia Sacchetti, è nata 25 anni fa per diffondere la conoscenza della malattia. Nel 1993 non esisteva ancora internet per cui volevamo saperne di più e per cui abbiamo cominciato a realizzare degli incontri presso la clinica pediatrica di Padova con gli specialisti che c'erano a quell'epoca proprio per avere maggiori informazioni relative alla terapia che stavamo facendo al nostro figlio, alla sicurezza, all'efficacia di questa terapia. Domande a cui l'Ulssotto è pronta a dare delle risposte. Statisticamente un bambino ogni 4.000 ha problemi di crescita, quindi può avere un deficit dell'ormone della crescita. Le bambine con la sindrome di Turner, che è un'altra delle patologie che seguiamo in associazione, è una ogni 2.500 bambine nate. Non è facile capire quando una bassa statura può nascondere un'anomalia, per questo è importante qualora si abbia anche solo un piccolo dubbio, chiedere un consulto. Da qui la scelta della struttura sanitaria di fare gratuitamente una prima visita di controllo. La stessa cosa avverrà in altri 54 ospedali del Veneto. L'ingresso è libero, previsto per venerdì dalle 14 alle 19 nel poliambulatorio del bambino al quinto piano dell'area C.